Sindaco Lombardi, ancora emergenza cinghiali a Roccamandolfi, cosa sta succedendo? Sì, purtroppo l'emergenza non è passata, anzi siamo in piena emergenza. Negli ultimi settimane ci sono stati episodi preoccupanti, circa tre. Ci sono stati degli incidenti stradali sulla provinciale che collega Roccamandolfi a Candalupo, ci sono stati alcuni cercatori di funghi che hanno incontrato dei cinghiali e sono stati spaventati, quindi sono dovuti addirittura scappare. E in ultimo c'è stato l'episodio più grave in cui un agricoltore è stato caricato da alcuni cinghiali con prole e addirittura ha dovuto ricorrere al dottore, quindi c'è tanto di certificato sanitario e tanto di denuncia alla forestale. Ovviamente questi episodi ci lasciano con estrema preoccupazione perché sono episodi che incidono sulla salute e quindi sulla sicurezza dei cittadini. Eppure qualche mese fa proprio nel suo paese venne il consigliere regionale Di Pietro con delega alla caccia il quale assicurò tutti del suo intervento, che in effetti c'è anche stato, quindi provvedimenti proprio per regolare la caccia del cinghiale in Molise. Non si sente soddisfatto? Ma gli interventi per la verità ci sono stati. Purtroppo ad oggi, visto lo stato attuale, bisogna dire che sono stati insufficienti e non sono stati incisivi rispetto al problema. Purtroppo l'emergenza cinghiale è un problema diventato appunto urgente e straordinario e secondo me va combattuto con provvedimenti urgenti e straordinari. Ad esempio? Ma può essere, ad esempio, si possono essere effettuati dei corsi per la caccia di selezione oppure si possono prevedere delle battute straordinarie. Nessuno mette in discussione la bellezza e la presenza di animali come quelli del cinghiale, però devono essere riportati all'equo numero che può essere sostenibile da parte di una società. Ecco, ma lei che tipo di messaggio vuole lanciare al Consigliere Di Pietro? Ma al Consigliere Di Pietro voglio dire che purtroppo i provvedimenti che sono stati attuati fino a questo momento non hanno portato al risultato sperato. Quindi bisogna cambiare passo, bisogna cambiare marcia, altrimenti rischiamo da qui a qualche mese addirittura che ci scappi il morto, lo dico in maniera brutale, però questo non deve avvenire, quindi sia provvedimenti urgenti, incisivi e che possano essere effettuati nel giro di pochi mesi.